Ancora un grande applauso, Fabio Olorin, Clarizia Ramblin Man Blues ad Avezzano per inaugurare questa prima serata del venerdì in grande stile, un genere che non abbiamo mai fatto per dire la verità insomma io credo che non ci sia bisogno di aggiungere nulla abbiamo sentito in che maniera si suona la chitarra questa sera non mi sono mai permesso di dire ad un artista perché è la peggio cosa che si può fare, fammi quella canzone, stasera lo faccio Johnny Picuto per salutare la decima edizione con Fabio Olorin, Clarizia Ramblin Man Blues la cantate con noi chiaramente, che ne dite? Ci siete? Un'altra cosa, questo è un festival blues, stiamo suonando blues seduti così, statici, è un concerto di altro genere, musica classica in piedi Avezzano, in piedi, come on! un'altra cosa, questo è un concerto di club per ogni altra Grazie a tutti 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 Grazie a tutti